Siamo con Silvia Siguri e Vittorio Bissaro, siamo al Salone di Genova. Ragazzi, è tempo di bilanci, sono finiti le Olimpiadi, ma anche di programmi. Qual è il vostro per la prossima stagione? Prego. Grazie. Il nostro programma, visto il background sui catamarani che abbiamo entrambi, è quello di incominciare con il NACRA 17 e provare l'avventura olimpica. È una novità per tutti e due, ma siamo super motivati, ci stiamo guardando intorno e stiamo cercando di aprire i nostri orizzonti, da capire con chi allenarci, fino a conoscere questa nuova barca, trovare qualcuno che ci dia una mano. Insomma, ci stiamo davvero a guardare intorno. Ragazzi, Velenmotore ha fatto una bellissima prova della barca, grazie anche a voi. Quando è che potrete mettere le mani voi per la prima volta sulla barca? La barca arriverà a fine novembre, inizio dicembre, andremo a prenderla in Olanda. Non vediamo l'ora, abbiamo intenzione, stiamo programmando, stiamo decidendo dove allenarci quest'inverno e con chi. Probabilmente rimarremo in Toscana, dove ci sono ottime condizioni meteorologiche, sia a livello di temperatura che di vento. Non vediamo l'ora che arrivi per poterci veramente mettere le mani sopra e cominciare ad allenarci, a capire come funziona, quali sono le peculiarità e come portarla alla sua massima velocità. Vittorio, tu dopo tante stagioni e tanti successi, diciamo, in Catamarano, in Formula 18 con Lamberto Cesari, quindi in monotipia, non in monotipia, cioè però tra maschi, come vedi questa nuova avventura mista con una ragazza? Mi metti in difficoltà, come faccio adesso a rispondere? No, la vedo bene. Ci troviamo bene con Silvia, ci conosciamo da tempo e credo che questo sia una delle chiavi, spero di successo, comunque uno dei motivi per cui siamo così motivati a incominciare questa avventura insieme. Quindi l'amicizia, credo che l'amicizia e il rispetto reciproco sia la base di un'avventura in Catamarano misto. Hai idea già di quali possano essere i vostri concorrenti italiani più agguerriti, con chi dovrete avere a che fare? Sì, ci conosciamo, dopo, veramente, vista la novità della barca, credo che il vero avversario sia la sorpresa di un equipaggio che esce da nulla, che non ci aspettiamo, perché sono tutti molto interessati, c'è un grande interesse, grande curiosità intorno a questa novità, quindi qualcuno che viene da Catamarano lo conosciamo, è motivato come noi a incominciare fin da subito, ma ce ne sono tanti altri probabilmente che non conosciamo ancora e che dovremo battere. Va bene ragazzi, grazie mille e buon vento. Grazie, ciao.